Il secondo giorno di scioperi in Spagna contro i tagli del governo Rajoy porta in strada migliaia di studenti in oltre 70 città. Qui siamo a Madrid, dove gli studenti si ribellano contro quella che hanno chiamato una scuola franchista. Obiettivo della contestazione, oltre al Premier, anche il ministro dell'istruzione, José Ignacio Bert, colpevole di alcune uscite infelici sui manifestanti. È una vergogna. Alcune persone devono pagare per le truffe di qualcun altro. Stiamo domandando il diritto all'educazione perché i lavoratori, l'educazione pubblica e la salute le pagano con le trattenute sullo stipendio. Siamo qui a manifestare per un'educazione pubblica, per tutti, anche per chi non ha troppi mezzi. I tagli del governo sulla scuola prevedono una riduzione del 21% nel 2013 e del 14% l'anno successivo. Queste misure, secondo i manifestanti, porteranno al licenziamento di almeno 50.000 insegnanti. Un quarto applauso per Alvaro!